Amadeus e Giovanna, è arrivata una fantastica notizia. I due sono una delle coppie VIP più amate dagli italiani. La coppia ha voluto condividere la notizia sui social insieme ai loro numerosissimi follower. Hanno condiviso una foto in bianco e nero su Instagram che non lascia spazio ad equivoci. I due si sono conosciuti in Rai nel lontano 2002 in Rai, quando Amadeus conduceva l'eredità e Giovanna faceva da ballerina e valletta. Inizialmente, lei era un po' restia all'idea di frequentare il noto presentatore TV ma alla fine ha iniziato ad uscire con lui. E poi si sono messi insieme. E 18 gennaio 2009 i due hanno dato alla luce loro figlio, José Alberto. E proprio ieri hanno festeggiato i 15 anni di matrimonio. Amadeus e Giovanna sono infatti sposati da ben 15 anni, dal 12 luglio del 2009. La didascalia del post parla chiaro, 15 anni di matrimonio. Oggi come allora? Una fantastica notizia. E chissà che presto non arrivi una nuova sorpresa. Nelle scorse settimane infatti i due sono stati visti davanti ad un famoso ospedale specializzato nella nascita dei bambini. E altre notizie positive arrivano nelle ultime ore per la coppia. Il figlio José Alberto infatti è stato ingaggiato come portiere dall'Udinese per giocare nell'Under 16 di calcio. Un motivo in più per festeggiare.